Nuove opportunità per i giovani presso il Comune di Agropoli, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili del 25 gennaio 2022, infatti sono state finanziate ulteriori 8.481 posizioni di servizio civile, 8.307 delle quali in Italia. Il Comune di Agropoli potrà quindi avviare un nuovo progetto di servizio civile intitolato New Generation First. È dedicato all'assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio. Saranno 20 i volontari coinvolti che si aggiungono ai 25 da destinare al programma Rete del Turismo Sostenibile, già approvato nel dicembre scorso. La nuova proposta progettuale mira a garantire il supporto e l'accompagnamento verso una crescita sana delle nuove generazioni, così da prevenire e contrastare condizioni di disagio che hanno già determinato o possono indurre affare proprie, condotte devianti e antisociali e comportamenti a rischio per se stessi e per la comunità. Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età, 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. La scadenza del termine è stata prorogata al 10 febbraio 2022 alle ore 14. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono comunque consultabili sul sito www.serviziocivile.gov.it oppure www.amesci.org. La candidatura dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda Online DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, inoltre occorre essere in possesso dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale. L'impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio, se avrà diritto ad un rimborso spese mensile di 444,30 centesimi di euro. L'ufficio Servizio Sociale del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti in orario di apertura pubblico da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 o telefonicamente ai numeri 0974 82 74 27, 0974 82 74 52 oppure 0974 82 74 90. Un'ottima notizia per la nostra città e per i nostri giovani, dice il sindaco Adamo Coppola, 45 giovani nei prossimi mesi potranno vivere questa esperienza che sono certo li aiuterà a crescere e ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Invito tutti a partecipare al bando, la comunità ma anche noi amministratori. Abbiamo bisogno di loro e del grande entusiasmo che sono capaci di trasmettere. Il servizio civile è una magnifica esperienza da vivere, per questo non posso che esprimere grande gioia per il finanziamento di un nuovo progetto dedicato a 20 giovani. Questa amministrazione comunale negli anni ha lavorato assiduamente per elaborare dei progetti che potessero coinvolgere ragazzi e ragazze del territorio, grazie ai quali anche l'offerta di servizi in favore della comunità, si arricchisce ulteriormente il commento dell'assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D'Arienzo.